un saluto a tutti gli amici e amiche che mi seguono avevo promesso tempo fa di regalarvi se così vogliamo dire un caricabatterie e nello stesso tempo è in grado di togliere il solfato ed è anche indistruttibile e lo realizzerete con i soldi che spendete quando prendete un paio di caffè allora il problema è io ho ragionato in questo modo ho fatto un video dove parlavo di reattanza capacitiva che cos'è lo ripeto brevemente per non allungare tanto il video la reattanza capacitiva è una resistenza che il condensatore offre se viene sottoposto a una frequenza omega c in pratica omega è 2 pi greco f per c quindi se lo andiamo a calcolare lui con questa capacità offre una certa resistenza allora se la resistenza qui fosse che ne so 10 e l'aumentare della corrente naturalmente se qui se qui aumenta la corrente naturalmente la tensione che cadrà ai capi del condensatore sarà v sarà uguale a r per i quindi più è grande la corrente e più la tensione cadrà sul condensatore non andrà a danneggiare la batteria se ci avessi messo se avessi messo qui una resistenza sarebbe stata la stessa cosa ma la resistenza poi c'è un difetto nel senso che se cade 100 volt ai capi della resistenza e ci vuole una resistenza molto grande perché scalda e quindi come si calcola il vattaggio e quindi avrebbe una resistenza grande quindi alla fine avremmo fatto una stufa cosa che non succede con questo perché con questo condensatore perché lui giostra sulla reattanza capacitiva quindi questo se lo toccate sarà sempre freddo bene io mi sono collegato qui l'ho simulato questo circuito mi sono collegato alla presa di casa le prese che abbiamo a casa 220 volt rms qui c'è scritto che significa significa e qui sono gli americani naturalmente e noi lo chiamiamo valore efficace significa questo significa che quando andiamo a misurare con un tester il tester rettifica la tensione e sia la semionda negativa la porta sopra e poi e prende valore efficace quindi noi andremo a leggere 220 ma in effetti se ne andiamo con un misuratore di picco 220 non è è molto alta la tensione va bene non tergiversiamo perché se no si va a perdere di vista quello che ci interessa bene questa tensione qui l'abbiamo rettifichata io mi sono tenuto questi diodi sono mille volte 3 ampere se li volete mettere più grandi fatelo più piccoli no io ho fatto un ponte quindi da questa parte ci ritroveremo una tensione pulsante è unidirezionale cioè non ha la semionda negativa la semionda negativa è stata riportata sopra allora questo è in grado di togliere il solfato alle batterie perché alla fine dopo ho pensato ho pensato ho pensato è uscito fuori questo che ci da questo schema che ci da la possibilità di caricare e togliere il solfato alle batterie perché alcuni mi hanno detto che il video che avevo fatto era grandioso ma lì usavo la tecnica del lavaggio con la coca cola non so quanti di voi avranno visto però questi signori giustamente dicevano ma guardi io ho una batteria che non posso aprirla chi mi segue non li deludo mai sarà una questione di tempo ma alla fine li accontento allora questo poi io quando vedo dei caricabatterie che ci mette un condensatore qui quello che si permette di pubblicare una cosa del genere dovrebbe essere preso a frustate in senso ironico perché la batteria è un condensatore già la batteria stessa ma che vai a mettere un condensatore e imparare la batteria la batteria rispetto a un condensatore è un condensatore abnorme ecco allora questi dovrebbero diciamo essere un po' più perché la gente non va da delle informazioni sbagliate benissimo questo è un prototipo non vi costa niente io davvero non ho provato ma qui funziona alla perfezione e signori miei questa volta dovete collaborare e mi dovete dire per cortesia se va o non va perché qualcuno di voi sicuramente andrà a realizzarlo perché queste sono parti in surplus questo è infusibile che io ce l'ho messo per diciamo cautelarmi e così via però poteva andare pure diretto insomma allora il problema è questo questo è in grado di caricare e togliere il soffato a una batteria da 6 volt fino a una batteria passando per 12 fino a 24 quindi 6 12 e 24 volt è in grado di farlo perché qui la tensione è altissima avete capito qual è il gioco? dice ma perché togliere il soffato? perché io non ho raddrizzato una tensione sono le semionde che ogni secondo gli arriva una scarica di semionde positive a 100 hertz in questo caso perché è rettificato e arriva una scarica di 100 impulsi ogni secondo allora la batteria non gradisce la tensione per ricaricarsi ma gradisce i picchi i picchi sono in grado di staccare il soffato se diciamo sono ben supportati da una potenza io ho visto dei circuitini in giro che sono ridicoli io non posso andare a generare 1000 volt con 555 quando poi la corrente è ridicola e misera è a zero bene detto questo penso che per gli aspetti dell'elettronica forse ho parlato già pure troppo adesso io ho questo simulatore adesso avete visto bene e vado a documentare vado su una batteria a 12 volt vediamo cosa succede simuliamo passa a un amper 0,84,85 la tensione chiaramente qui è caduta c'è una caduta minore perché ha capito che qui non c'è più 6 volt ma ce ne sono 12 ecco perché è pure intelligente non ci vuole un microprocessore bene andiamo a 24 togliamo la simulazione simuliamo sulla batteria 24 simuliamo attenzione qui io ce l'ho messo questo voltometro per vedere ai capi dei diodi se funziona tutto bene mi dice che è 24 ma è un po' di più anche e passa con un amper e 168 169 cioè un amper 2 e va bene se questa batteria tende ad andare in corto la tensione qui aumenterà e si abbasserà qua ecco perché è automatico gli impulsi andranno a togliere il solfato sulle batterie chiuse questo l'ho realizzato per voi amici che mi seguite e anche per coloro che non mi seguono io vi consiglio comunque di mettere un amperometro su internet adesso sono dei piccoli amperometri che costano pochissimo quindi amici non vi costa niente la manopola di regolazione non occorre perché come avete visto si autoregola questo quando io cambio batteria se ne accorge ecco ritorno a 12 rilanciamo la simulazione un attimo ecco qua ha detto che qui leggiamo 12 e l'amperaggio è 1.084 0.084 miliampere benissimo e cioè in pratica 1 ampere tanto per capirci io penso di essere stato chiaro adesso il circuito va modificato così allora togliamo la simulazione il generatore lo togliamo perché il nostro generatore sarà la presa di corrente di casa e noi entreremo con la 220 qui ecco come si presenta finito è pulito si adatta bene possiamo lo ripetiamo caricare 6 12 e 24 i tempi se sono lunghi fatelo lavorare perché questo ha del lavoro da fare togliere anche il solfato perché le correnti in gioco non sono alte se poi volete aumentare le correnti e non dovrei nemmeno dirvelo dovrete aumentare il valore di questa capacità da 25 e portarla ancora 25 50 anche a 100 ma non ve lo consiglio con le batterie bisogna andarci e questo è un valore ottimale perché con le batterie bisogna andarci con i piedi di piombo questo fatelo lavorare prendete un cadavere di batteria lo collegate e andate avanti questi diodi se li volete mettere più robusti va bene se volete mettere un amperometro in serie qui io adesso se lo trovo al volo ecco l'ho messo quindi vi da un'idea di quanta corretta scorre sulla batteria quindi questi hanno un prezzo irrisorio costano pochissimo benissimo io non ho altro non ho altro da aggiungere fatemi sapere se vi soddisfa attenzione alle tentazioni di aumentare questo per fare prima io non ve lo consiglio che dopo dovete aumentare il valore di questi e così via fate così provatelo e se va tutto e mettete quello che non va in descrizione perché io l'ho solo simulato questa è una cosa che mi è uscita dalla testa a me l'ho messa in pratica e basta provarla non è che io mi sono imbarcato o vi ho fatto imbarcare su un un progetto costosissimo e poi non sappiamo l'esito questo è semplicissimo amici io vi ringrazio e vi auguro una buona serata grazie per avermi ascoltato